E' qui che molte persone si sbagliano. La democrazia non significa libertà, non è sinonimo di giustizia, uguaglianza, solidarietà e pace. La democrazia invece è una forma di dittatura, la dittatura della maggioranza e dello Stato soprattutto. La democrazia è un sistema introdotto nella maggior parte dei paesi occidentali circa 150 anni fa. Uno degli scopi era quello di realizzare l'ideale socialista nel contesto delle società liberali. Però oggi non vi è più nessun buon motivo per mantenere questo sistema di democrazia parlamentare perché non funziona.